ancora un attimo di pazienza e ho finito ecco qui direi che è venuto benissimo mi hai chiesto di dipingere un quadro che avesse te come soggetto e io l'ho fatto è venuto un gran bel quadro cosa vuoi vederlo no guarda devo correggere qualche dettaglio poi si poi te lo mostro però però non è ancora finito ci siamo quasi però beh ragazzi torniamo alla nostra lezione eccoci buongiorno ragazzi bentornati all'interno del nostro canale come avete visto dal titolo ci occuperemo oggi di soggetti e voi vi chiederete ma prof ma perché abbiamo iniziato la lezione con l'arte semplice molto semplice perché se ci pensate il soggetto di un quadro di una scultura di un'opera d'arte in genere non è poi molto diverso dal soggetto di una frase il soggetto possiamo dire che sia il protagonista di un quadro di un dipinto di una scultura di un'opera d'arte e il soggetto di una frase allo stesso modo è il protagonista assoluto di quella frase in che senso vediamo come potrei spiegarvelo avrei bisogno di proiettare alcune immagini però non ho un proiettore non ho uno schermo abbastanza grande ma certo ma qui siamo all'interno del canale tutto è possibile mi basterà vediamo disegnare un pulsante di accensione qui e in teoria la mia lavagna si trasformerà in uno schermo proviamo non vi assicuro niente ma proviamoci vediamo se funziona funziona perfettamente guardate qui possiamo dire la dama accarezza l'ermellino la dama in questa frase fa l'azione di accarezzare è la dama il soggetto della frase in questo quadro invece si non si vede bene proviamo a zoomare un po ecco qui la corona è sollevata da napoleone la corona è un oggetto non fa nulla è lì ma è il soggetto della frase perché subisce l'azione di essere sollevata il verbo è infatti di forma passiva in questo caso invece il soggetto non fa proprio nulla è lì fermo possiamo dire che van gogh è molto serio il soggetto è van gogh ma van gogh non sta facendo nulla è solo molto 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 serio ma è completamente immobile è lì spegniamo il nostro schermo per sintetizzare possiamo dire che il soggetto di una frase può essere chi fa l'azione un classico luca soggetto mangia la mela luca fa l'azione di mangiare la mela oppure chi subisce l'azione come nel caso di marco soggetto è superato da piero in una gara oppure può essere soggetto anche chi non fa proprio nulla chi è in una certa condizione o ha una caratteristica particolare come nel caso di paolo soggetto è stanco oppure paolo è alto oppure anche paolo è un poeta in quest'ultimo caso il soggetto non fa nessuna azione e nemmeno la subisce ma semplicemente è qualcosa vi ricordate il predicato nominale di cui abbiamo parlato qualche lezione fa sì si usa proprio lui ma ragazzi secondo voi il soggetto deve esserci all'interno di una frase abbiamo detto che il verbo è indispensabile lo abbiamo fatto quando abbiamo definito le frasi nel dettaglio ma il soggetto a volte può anche non esserci è il caso molto molto raro dei verbi impersonali come ad esempio che ne so piove oppure nevica come tra l'altro nevicava nell'ultimo video che vi ho proposto qui all'interno del canale ma in tanti altri casi in tante altre frasi il soggetto c'è ma non si vede il soggetto è mimetizzato molto bene come potrei mostrarvi questo caso allora ma che sta succedendo ma sono diventato anch'io un quadro che cosa succede chi è questo signore beh in questo caso posso dire gioco a carte non serve che io dica io gioco a carte io è soggetto sottinteso gioco a carte ci capiamo benissimo la frase sta in piedi ed è più snella gioco a carte e sto anche perdendo che fortuna e qui dove siamo chi è tutta questa gente beh qui posso dire sono seguito da tanta gente come vedete sono io il primo non seguo nessuno sono gli altri che seguono me io subisco l'azione sono seguito e anche qui non serve che io metta l'io io è soggetto sottinteso sono seguito è sufficiente e adesso ci mancava questa in questo caso posso dire sono una bella signora si uno splendore senza utilizzare l'io si capisce benissimo la frase sta in piedi ed è corretto sono una bella signora non faccio alcuna azione e non la subisco io sono una bella signora ma mi date una mano ad uscire da questi quadri per favore wow che sensazioni incredibili il soggetto sottinteso e quindi quel soggetto che c'è ma non si vede e lo utilizziamo ad esempio quando evitiamo di inserire all'interno delle nostre frasi i pronomi personali che non farebbero altro che appesantire e rendere anche quasi fastidiose le nostre frasi infatti potrei dire ad esempio tranquillamente tu sei un bravo studente però se togliamo il tu forse meglio sei un bravo studente oppure potrei dire anche lui è andato al mare ma se dico semplicemente è andato al mare vedete la frase è più snella più leggera e più diretta posso dire allo stesso modo ci divertiamo un bel po' qui all'interno del nostro canale oppure siete molto attenti oggi oppure anche passeggiano in montagna vedete possiamo fare a meno di esprimere il pronome personale le frasi saranno più leggere e il nostro interlocutore o il nostro lettore vi assicuro ci ringrazierà non mi resta che salutarvi ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime novità e noi ci vediamo presto dove ovviamente sempre qui all'interno del nostro canale ciao ragazzi